E' arrivato nei giorni scorsi al Comune di Sant'Alfio il decreto di finanziamento per un valore di 501.882 euro per la realizzazione del CCR e il Centro Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti disposto dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Il progetto prevede oltre alla sistemazione messa in sicurezza del sito di Vietna, la creazione di un locale per uffici, una stazione di identificazione e pesatura utenti, una stazione remota per la raccolta dati, beige utenti codificati, container scarrabili con coperchio, con compattazione e contenitori stagni. Il CCR è una struttura di fondamentale importanza e indispensabile per la pianificazione di un moderno sistema di gestione integrata dei rifiuti, con l'obiettivo primario di incrementare la quantità e la qualità della raccolta differenziata sul territorio comunale. I cittadini di Sant'Alfio, spiega il sindaco Giuseppe Nicotra, potranno portare direttamente al centro di raccolta i rifiuti da conferire, carta e cartone, vetro, ingombranti, sfalci e potature, legno, lattine e metalli. Gli operatori provvederanno a pesare e registrare peso e tipologia con un apposito programma. I dati potranno poi essere controllati dallo stesso cittadino attraverso una procedura online. In questo modo sarà possibile usufruire di vantaggi economici anche attraverso un eventuale sgravio sulla tassa dei rifiuti. Naturalmente ai residenti sarà sempre garantito il porta a porta, ma chi vorrà potrà conferire rifiuti differenziati direttamente presso il centro comunale di raccolta. Un'altra conquista dunque per il nostro paese, dice con soddisfazione il sindaco Nicotra. Un altro passo avanti è un servizio in più alla comunità cittadina. Un servizio che ci consentirà da un lato di incrementare la raccolta differenziata, disincentivare l'abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio comunale e agevolare il recupero del rifiuto stesso. E dall'altro di offrire ai cittadini l'opportunità di arrivare ad un concreto risparmio sulle tasse da pagare.